Stiamo chiamando la terza finalista. Allora, lei è di origini lucane, però vive a Roma, è mamma, è maestra ed è anche una musicista. La chiamiamo insieme, lei è Isabel Panè. Ora ti parlo da qui, ora dal centro di me, perché ho visto nel mondo soltanto un rumore, perché ho perso il silenzio nel cuore. Ora ti prego da qui, Gesù, dal centro di me, per pulire la via del cuore ed avere pensieri più semplici e veri. Dammi il mio cuore di bambino, felice per la luna, Stupito dal vento, rapito dal canto del mare, dai sogni di sole e pioggia. Felice per la luna, stupito dal vento, rapito dalla tua parola e dal tuo immenso amore. Il mio cuore di bambino, grazie a Isabel Panè. Grazie.